Sono Massimiliano Lega del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli Partenope. Per il futuro remoto vi presenterò tecniche e tecnologie avanzate per la migliore comprensione dei fenomeni di inquinamento e per la lotta ai crimini ambientali. Ho unito diverse branche dell'ingegneria, dall'ingegneria ambientale a quella aerospaziale e in ultima l'ingegneria ambientale forense. Presenterò un approccio multidisciplinare che oltre alle mie competenze vedrà chiamate in causa anche quelle del mondo della chimica, della fisica e molte altre. Vedremo durante l'incontro video e dimostrazioni per diversi campi e domini applicativi, tra cui in un ultimo chiaramente quello ambientale con esempi legati alla tristemente notta terra dei fuchi. L'approccio è basato su elementi chiave, elementi chiave che comprendono sicuramente esempi declinati di intelligenza applicata, ma soprattutto la volontà e la ricerca continua di una consapevolezza di ciò che ci circonda, la cosiddetta consapevolezza situazionale. Ma per saperne di più vi aspetto a futuro remoto.